Benvenuti al telegiornale quotidiano sul mondo dei motori di ruota in pista, lunedì 19 ottobre 2015. Kia. Kia Seed si rinnova e punta al lato più emozionale dei suoi potenziali clienti. Esteticamente acquista personalità e sportività al frontale. La sua presenza su strada è resa più importante dall'adozione delle luci diurne LED Ice Cube, da uno scudo paraurti di nuovo disegno con griglia nido d'ape di grandi dimensioni e da una forma più allargata. All'interno dell'abitacolo una migliore insolidizzazione perfeziona il conforto acustico, mentre una completissima dotazione tecnologica in termini di sicurezza, assistenza alla guida e connettività collocano Seed al vertice del segmento. Importanti novità anche sotto il cofano, dove debutano i tre cilindri turbo ad iniezione diretta 1000 TGDI da 100 e 120 CV, con coppia massima fino a 171 Nm, ad appena 1500 giri in minuto, ed emissione di CO2 contenute a 113 g per km. La nuova Kia Seed debutterà nelle concessionarie del prossimo weekend, con prezzi compresi tra i 17.500 e i 26.000 euro, 900 euro in più per la station wagon. Citroen Citroen rinnova la C3 con un nuovo allestimento. L'entry-level Live Edition propone esclusivi elementi di stile come plancia bianca e il rivestimento interno in tessuto Blue by Amistral. Invariata la gamma motori Pure Tech e Blue HDI, con potenze tra i 75 e i 110 CV, prezzi ridotti di 700 euro per le versioni benzina e 500 euro per quelle diesel. Hyundai La nuova generazione della Hyundai Tucson ha già registrato il miglior risultato mensile di sempre in Europa e negli Stati Uniti. Tucson ha guadagnato il 27% nel vecchio continente, con 12.928 unità consegnate in settembre, ed è cresciuta di 7.925 veicoli in America. A domani per altre news. A domani per la visione di Stati Uniti.